Cosa stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Chi fa? Questo è un canale riservato. Non ho l'opera che andrò da un'opera. Cazzo. Che diavolo è successo qui? Che diavolo è successo. Che diavolo è successo. Che diavolo è successo. Che diavolo è successo. Sì, sì. Oh, no. 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 Oh, no.